A presto! Stai mettendo su un culetto, figlia mia, proprio da donna. Signore, io volevo... Io non posso avere le cuore metà subito, adesso. Mi piace, Michele. Ma va. C'è ragione, tu sei così bella. Ma che ne dà le 25 anni? C'è sì! Se ci vedesse Rosetta, fanno proprio una bella figura. E' per finire lui, il tessuto pere. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.